Tutorial Front Lever One Leg Pulse, complementare e dinamico per il front lever utile a rinforzare soprattutto il dorso. Questo esercizio prevede l'ausilio di una sbarra coppia di anelli. Afferrare in presa prona il supporto, mani larghezza spalle, scapole addotte e depresse, tronco parallelo al suolo. Piegare le ginocchia al petto il più possibile, al punto che i talloni dei piedi sfiorino i glutei, e stendere una gamba con piede puntato. Oscillare con il corpo dalla posizione orizzontale verso la verticale, ossia in inverted hang, tornare nella posizione iniziale e ripetere. Agli anelli è più comodo poiché non c'è l'ostacolo della sbarra. Eseguire sempre ogni serie con una gamba tesa alla volta, evitare quindi di stendere la gamba destra e subito dopo la sinistra nella stessa serie. In caso di difficoltà utilizzare una loop band, ispirare nella fase discendente ed ispirare nella fase di risalita.